Il campo è formato dai coni arancio con il cono giallo che delimita, diciamo così, la parte esterna del campo. Portami quel cinese lì all'altezza del cono giallo su questa linea. Quindi fai dieci passi verso il cono giallo, di là, e lo posizioni a terra. Metti l'ore. Perfetto. Un rosso, un rosso, un rosso. Un altro rosso qua, no c'è già lui. Voi siete nel mezzo come prima, come prima. Valore, in zona a destra, numero 8, numero 10, in zona a sinistra, esterno, sinistro o destra, a seconda di chi gioca. Difensore, centrale, tu, tu, adesso un attimo che mi aspetti. Difensore, centrale, di destra. L'obiettivo di giocatori rossi è collaborare con i giolli. Con i giocatori gialli, con i giocatori gialli, che sono gialli gialli, contro i quattro arancioni. I giocatori rossi, insieme ai gialli, giocano contro gli arancioni. Se gli arancioni si occupano la palla, siete voi a collaborare con i giolli. Mettate voi la squadra che ha la palla. E vi spostate in posizione. Tu ti metti là. Tu ti metti là. Tu vai là. E tu vai là. Vi spostate e dovete mantenere la palla voi. E lo stesso al contrario se lo vuoi. E lo stesso da recuperare. Ancora, di nuovo. Ritornate nelle posizioni. Proviamo. Bene il passaggio. Mi muovo sulla linea. Se loro mi chiudo il rinforo. Non ha problemi, non c'è nessun attacchio. La muovo. Ok? Buona. Buona rossa. Buona rossa. Suocchiamo. Mi porta il passaggio. Bravo. 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 Eccola di ferma. Fuori. Palla arancio. Cambia la posizione. Fermo. Non ti attacca nessuno. Mi sbaglia. Bene il passaggio. Giocano i rossi contro i aranci. Fuori. Palla arancione. Palla fuori. Palla rossa. Dentro l'arancio. Dobbiamo stare dentro il campo. Con calma. Gli aranci sono fuori. Gli aranci sono dentro. Gli aranci fuori. Gli aranci sono 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 fuori.